raccomandato da uomini e donne riccardo guarnieri è pronto a fare il suo ritorno in studio a lanciare la bomba e lorenzo pugnaloni che si spinge oltre e spiega la ragione di questo ripensamento improvviso intanto ida ha lasciato tutti senza parole dopo la pace con tanto di abbraccio con roberta di padua un gesto che non ha convinto tutti fino in fondo ma che soste pagliacciate non ci credo neanche se me lo giurano davanti due donne che si sono odiate da subito e da sempre ora all'improvviso roberta non so ma ida falsa più di giuda le avranno detto di organizzare la cosa essendo pure tronista risulterebbe ancora più odiosa come se non lo fosse già a tutti e poi diciamolo con sincerità le donne se odiano odiano per sempre o facciamo vedere che sia uomini e donne dopo i da platano torna anche riccardo guarnieri e ancora io alla sorellanza a tutti i costi non ci credo siamo più intelligenti ma più perfide degli uomini di esempi se ne potrebbero fare ancora tanti il punto tuttavia lo coglie questo commento che un utente affida instagram sotto il post in cui si vedono roberta e ida abbracciarsi l'abbraccio più finto nella storia di uomini e donne ancora una volta emerge la falsità di ida ipocrita e opporto uomini e donne dopo ida platano torna anche riccardo guarnieri criticatissima ida ora avrà il suo bel da fare viso che riccardo guarnieri bussa alla porta stando a quanto riportato sui social da lorenzo pugnaloni l'ex cavaliere del trono over avrebbe smesso di seguire sui social la presunta fidanzata un chiaro segnale del fatto che sarebbe tornato single e ciò porta a pensare ad un suo rientro nel cast del partero over di questa edizione grazie a tutti grazie a tutti